ecco buonasera vi tengo aggiornati con i video non per qualche motivo particolare ma perché siete talmente tanti più di mille persone allora a me dispiace non riuscire a rispondere ma davvero rispondere a tutti mi è impossibile invece in questo modo qua riesco a rispondere a tutti quelli che sono così gentili da essere preoccupati per la mia situazione a voler sapere come sta andando e peraltro che ringrazio ovviamente allora sono stata all'ospedale anche oggi sono rientrato da poco ora mentre sto registrando sono le 8 e 46 di sera il tempo che faccio il video poiché si carica non so quando uscirà quindi in serata ma non so che ora quindi vi faccio presente che sono arrivata proprio da poco non rispondo al telefono perché non ce la faccio mi arrivano troppe cose io oggi sono andata anche in giro a cercare dei pigiami delle cose da comprare che poi serviranno quando se e quando uscirà dal coma farmacologico mio marito intanto volevo aggiornarvi visto che mi state chiedendo tutti come va come va e oggettivamente anche i commenti sono talmente tanti che non riesco proprio a starci dietro a rispondere a tutti quindi condenso tutto qui nel video ah io ho sempre i miei dolori ma vabbè pure la bronchite con il mal di schiena mi ci voleva allora siamo andate all'ospedale anche oggi i medici ci hanno informato che io e l'ambrogia perché l'ambrogia erica mi accompagna lei con la macchina sia per la macchina e sia per il fatto che sapete che io non ci sento sono sorda e in rianimazione nel reparto di rianimazione ovviamente i dottori non è che possono mettersi col megafono a urlarti le cose che ti devono dire e quindi io mi trovo sempre in deficit perché non capisco una fava di quello che mi dicono in più in reparto di rianimazione bisogna portare ancora la mascherina cioè o meglio di nuovo la mascherina e quindi non posso neanche vedere il labiale di conseguenza se ci andassi da sola sarei non capire la mazza per cui erica mi accompagna anche dentro ho chiesto il permesso di far entrare anche lei quindi entriamo in due invece che in uno ma se no io non ho modo di capire e di rispondere anche ai medici quando mi fanno domande e invece me la fanno entrare ora domani arriverà anche qua mia cognata per fortuna santa cognata che ha sua sorella che poverina ha cercato di partire immediatamente appena l'ho chiamata il giorno stesso ma purtroppo si è trovata ingabbiata dagli scioperi perché giustamente le ferrovie dello stato quando lo fanno lo sciopero d'estate che la gente prende tutto il treno vabbè senza nulla senza come si dice girare il coltello nella piaga perché altrimenti fare saltare per aria anche le ferrovie dello stato loro e i loro scioperi del cappero che tanto non servono a niente nel 2024 servivano negli anni 70 gli scioperi oggi come oggi non servono a un'emerita mazza se non fa perdere tempo soldi ore di lavoro ore di servizi e quant'altro ma vabbè quello probabilmente adesso io essendo un pelo alterata anche a livello nervoso non sopporto nulla e quindi me la prendo un po con tutto ammetto che magari chi fa lo sciopero ci possa anche credere anche se in questo preciso momento sono sincera con tutto tutta l'empatia che ci posso mettere quello che fa lo sciopero e mi inghippa il casino a me mentre mio marito sta male mi sta sui coglioni a prescindere lui è il suo sciopero prendetela come vi pare non sono una santa sono una sveva non sono una santa e in questo momento lo scioperante mi sta sui coglioni non posso fare niente sarai falsa ipocrita a fare la buonistia a dire ma no tutto sommato lo devono fare perché è giusto perché qua avete perfettamente ragione sarà anche giusto sarà anche doveroso ma quando ti trovi in situazioni appunto come come la mia del tuo giusto del tuo doveroso purtroppo non te ne frega una ceppa ripeto mi pentirò sicuramente di queste parole perché io sono una persona estremamente empatica che cerca sempre di capire le necessità i bisogni di tutti ma in questo preciso istante siccome sono una persona estremamente sincera dico sempre quello che penso nel bene nel male in questo momento quelli che fanno questi scioperi mi stanno sul cazzo in una maniera esagerata poi magari mi passerà ebbene appunto tornerò a essere lucida con la testa magari chiederò anche scusa in questo momento non lo chiedo comunque tornando invece al discorso degli esami allora attualmente mio marito è sempre in coma farmacologico non lo svegliano finché non trovano cosa sia accaduto a 365 gradi però cos'è successo ieri sera stava entrando in crisi respiratoria quindi lo hanno intubato anche con l'ossigeno oltre alle 10.000 flebo che già macchinari attaccati e quant'altro gli hanno inserito anche l'ossigeno e da quella carenza respiratoria hanno immediatamente devo dire che sono stati veramente solerti e precisi a camerino hanno immediatamente controllato l'apparato respiratorio hanno trovato una cosa strana hanno trovato uno dei due polmoni che sta invecchiando rispetto all'altro e si sta come accartacciando ma non sanno il perché è una cosa che non conoscevano nemmeno i dottori e tra le varie ipotesi c'è anche adesso quella che questo polmone potrebbe averlo mandato in crisi respiratoria appunto quando poi è collassato a casa e potrebbe averlo fatto entrare in ipossia l'ipossia sarebbe la mancanza di ossigeno al cervello è notoriamente conosciuta per quando di solito per i bambini che nascono prematuri di solito a causa di gestosi dove si spacca il sacco amniotico perché non sono ancora capace a respirare e quindi entrano in ipossia cioè in mancanza di ossigeno che arriva al cervello e normalmente sempre può portare dei danni celebrali però lì tutto dipende ad esempio mio figlio è nato di sette mesi proprio a seguito di una gestosi mi si era spaccata la sacca amniotica è entrato in ipossia tanto che appena nato gli hanno infilato il ventolino perché non riusciva non era capace a respirare da solo lo hanno trasportato da un ospedale all'altro perché di genova lo sa da voltri l'hanno portato al gaslini eppure nonostante tutto nonostante mi avessero detto che ci sarebbe stata la possibilità e se ne entrate in ipossia che avesse avuto dei danni celebrali in effetti gli fecero immediatamente l'attack fortunatamente a lui non era capitato nulla però l'ipossia l'ipossia di mio figlio era un'ipossia che presumibilmente era durata giusto proprio poco tempo magari perché nonostante si fosse rotto il sacco amniotico era rimasto il liquido abbastanza per mantenerlo in vita perché sono stati tempestivi l'hanno immediatamente intubato col ventolino e poi portato all'ospedale pediatrico apposito non lo so non sono un medico e so che fortunatamente all'epoca a mio figlio non accade nulla a livello cerebrale ma per quanto riguarda invece la situazione di mio marito io non so quando possa essere successo il suo svenimento iniziale ma io sono uscita di casa intorno alle 4 4 e 10 ed era sano tranquillo respirava normale parlava normale era normale e sono rientrata manca 20 manca un quarto alle 5 quindi roba di mezz'ora grosso modo e l'avevo trovato già accasciato in più la croce ci ha messo mezz'ora 40 minuti ora io i minuti esatti non me li chiedete perché io non è che sono stata lì a guardare gli orologi in quel momento quindi possono essere mezz'ora 40 minuti comunque un bel po di tempo e inoltre poi era rimasto in questa condizione di come apparente svenimento prolungato non so come definirla per oltre 4 ore inoltre svegliandosi aveva avuto la crisi epilettica quello che vi ho spiegato nell'altro video quindi è tutto un ma è tutto un se ora stanno concentrando i controlli e stanno concentrando anche le indagini proprio su quel polmone che sembra che si stia accartocciando e che è decisamente molto più invecchiato rispetto all'altro mi hanno quindi già fatto presente che comunque non lo sveglieranno dal coma farmacologico finché non scopriranno perché questo polmone si sta deteriorando una volta ammesso e non concesso che lo scoprono e che riescono a sistemare appunto la situazione respiratoria che per ora è attaccata al tubo dell'ossigeno allora e solo allora in quel caso lo sveglieranno anche lì mi hanno messo davanti il ammesso e non concesso che si svegli e faranno poi anche gli accertamenti neurologici per vedere che quali e se ci sono dei danni o meno quindi al momento diciamo che l'indagine principale è tutta volta a questo polmone invecchiato e anche i medici non hanno saputo spiegarmi meglio mi hanno detto signora l'unica cosa che le possiamo dire è che questo polmone è invecchiato è più vecchio di parecchio rispetto all'altro il perché e il per come ancora non lo sappiamo quindi non glielo possiamo dire io se non vi do altre spiegazioni è perché non è cambiato nulla se cambia qualcosa o se si scoprono altre cose ve lo faccio presente ve lo faccio presente sempre con i video ripeto in primis perché voglio in qualche modo ringraziare e tenere in conto tutte le persone che siete che mi continuate a chiedere notizie eccetera ma che materialmente se dovessi scrivere a tutti non ce la farei secondo perché tutto fa io sono sempre quella fatalista quella che pensa che tutto ciò che accade deve accadere e anche in questo caso chissà magari qualcuno che conosce la medicina magari qualcuno che ha un'intuizione geniale di un qualcosa sentendo come procedono le visite e le cure magari potrebbe dare anche l'input o l'idea giusta perché no mille volte è successo che da una chiacchierata con una persona qualsiasi che non è neanche medico o infermiere possa venire fuori invece un input geniale e saltare fuori un'idea è successo a me per prima l'anno scorso con il discorso delle statine mai più avrei pensato che le statine fossero la causa dei miei dolori alle gambe e invece parlando con una signora che peraltro quest'anno un'amica che peraltro quest'anno ha 99 anni quindi una signora ben ben attempata è stata proprio lei a farmi presente che le statine almeno a lei portavano questi dolori agli arti inferiori e da lì è partita la mia ricerca e mi sono accorta che tutti i dolori che io avevo tutte le mattine quasi da non riuscire a camminare erano proprio portati dalle pastiglie per il colesterolo e cosa ho fatto le ho mollate lì non le ho più prese ma quello lì è un altro discorso quindi appunto qualsiasi idea qualsiasi input qualsiasi intuizione può sempre essere valida per cui trovo dal mio punto di vista estremamente utile anche per me oltre al rispetto che ho verso tutti quelli che sono interessati a come sta andando questa mia situazione ma anche proprio a livello meramente egoistico se sa mai saltasse fuori appunto chi c'ha un'idea geniale tutto può essere qualsiasi cosa quindi tutti possiamo avere quell'attimo con la scintilla di genialità magari per puro caso per un pensiero per un evento che magari è capitato simile a qualcuno e via dicendo e allora mi sono detta perché no tanto alla fine io racconto sempre tutte le mie video da nascondere non c'è niente è una questione meramente di salute e anzi ancora di più potrebbe anche succedere che mentre racconto ciò che sta accadendo possa oltre a venire bene a me e poter avere magari un aiuto da qualcuno possa anche essere utile per qualcun altro perché tutto ciò che capita a noi nel mondo è capitato e capiterà anche ad altre persone sempre a prescindere che siano poche o tante quindi è tutto un aiuto un aiuto reciproco è un aiuto della ragnatela dei destini unificati quella di cui parlo sempre nei miei video questo ovviamente è sempre un fuori orario ma ci tenevo appunto a tenervi aggiornati per ora vi saluto carico questo video vado a svenire sul letto perché veramente non mi reggo in piedi c'ho un sonno porco inoltre c'ho tutti sti problemi adesso anche mal di schiena per la bronchite tutta una serie di condizioni che mi stracciano e niente vi faccio sapere domani cosa cosa mi dicono cosa accadrà cosa non accadrà sempre tramite video in modo che riesco a raggiungervi meglio tutti grazie davvero a tutti indistintamente grazie 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 col trattino sopra che vuol dire periodico all'infinito sempre ciao